Questo sia l'accettivo per questa squadra che batte la numero uno del ranking. Abbiamo meritato di vincere, sono stati straordinari nel gioco, è chiaro che abbiamo sofferto gli ultimi 10 minuti perché eravamo veramente stanchi, però sono stati veramente bravi, potevamo fare qualche gol in più. 25 minuti di belgio, ma l'Italia ha tenuto botta, è stato 25 minuti di belgio di sofferenza all'inizio, abbiamo tenuto botta, è stato lì il momento decisivo? 25 minuti di sofferenza all'inizio no, era una partita abbastanza aperta, allora eravamo freschi, c'erano diverse azioni, ma non di sofferenza, la sofferenza è stata un po' alla fine, quando loro hanno iniziato a buttare le palle là e noi siamo difesi, ma questo alla fine ci stava perché veramente avevamo speso tanto, non abbiamo mai sofferto. Adesso non possiamo più nasconderci perché torniamo tra le prime quattro, possiamo dire che il risultato minimo è centrato o adesso dobbiamo arrivare in fondo? Noi non avevamo risultato minimo a inizio, siamo partiti per cercare di fare il massimo che potevamo fare, la strada è ancora lunga, mancano ancora due partite e vedremo quello che accadrà. Per quello che riguarda l'avversario, è la Spagna che ha giocato due supplementari. Adesso godiamoci questa vittoria, poi ci pensiamo e complimenti ai ragazzi che sono stati veramente bravi, bravissimi. Grazie, grazie Roberto.